La giornata di oggi organizzata dalla ASL di Bari ha questo fine, quello di porre dei punti chiari sulla questione Ebola, ridefinire l'origine e la sede di sviluppo, che sono solamente tre paesi dell'Africa occidentale, che sono assolutamente lontani dall'intero continente africano e molto lontani da questi paesi occidentali, europei e americani. Gli unici casi che sono approdati, uno in Spagna e uno in America, sono stati di operatori che avevano fornito la loro opera, spesso volontaria, in quelle aree e quindi a diretto, stretto contatto di assistenza. Quindi possiamo dire che qui il virus, specialmente in Puglia, non è mai arrivato? In Puglia mai arrivato, in Italia neanche, in Europa solamente in Spagna attraverso quella infermiera da cui storia conosciamo tutti. Non ci sono voli diretti da quei paesi in Italia e questo è già di per sé un riferimento. Abbiamo tempi di incubazione che vanno da 2 a 21 giorni e tutti gli immigrati che arrivano devono subire periodi di trasferimento, lenti, faticosi e defatiganti, talmente lunghi che non possono portare con se stessi la malattia. Comunque il cordone sanitario dell'OMS e dell'SDC, che è l'equivalente dell'OMS europeo, sono forti. In ogni aeroporto hub, cioè di riferimento e di ritorno, di incontro dei vari voli, da quei paesi dell'Africa e non dagli altri paesi dell'Africa che sono indenni dalla presenza del virus Ebola, questi controlli sono attenti riguardando poche cose, ma importanti. Cioè l'aspetto epidemiologico che corrisponde a provenire da quei tre paesi o essere stato a contatto con un caso conclamato di Ebola. e l'altro è l'aspetto clinico riguardando i sintomi, cioè la febbre, la profonda astenia o altre ancora. Tutte situazioni che sono già bloccate sia in partenza e sia a questi aeroporti di riferimento.